Termometri in netta discesa stamane nelle città e nelle aree di montagna del Veneto per la prima eruzione fredda dell'autunno dopo settimane di caldo. Sulla marmolada si sono registrati 10 gradi sotto zero la notte scorsa ed attualmente il valore uscilla sui meno 5. Un crollo termico che, con l'aria proveniente dal nord-est, ha portato il primo accenno di freddo anche in pianura, anche se al momento mancano ancora le piogge. La minima più bassa è stata registrata a Treviso con 7 gradi, 9 gradi a Vicenza, 10 a Padova, al confine con il Friuli a Porto Gruaro 5 gradi. Si tratta di uno sbalzo di oltre 6 gradi in meno nelle minime rispetto ai giorni della lunghissima ottobrata. Stamane, con vento e cielo coperto, l'aria è ancora frizzante, le temperature non superano in pianura i 10-11 gradi.